Il costo del denaro portato al 4,5% dall'ABC ha fatto triplicare in due anni i tassi praticati dalle banche sui mutui erogati alle famiglie e quanto emerge da una ricerca della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, sentiamo il segretario generale Lando Maria Sileoni. La decisione dell'ABC ha avuto un impatto molto negativo sui mutui e sul mercato immobiliare. È più difficile indebitarsi e conseguentemente stanno calando le compravendite di abitazioni. Spero che il taglio dei tassi possa arrivare già nella riunione dell'ABC di maggio. Il governo potrebbe comunque studiare soluzioni anche di tipo fiscale per aiutare soprattutto i giovani a realizzare il sogno di una casa di proprietà.